Dopo l'ordinazione avvenuta nei mesi scorsi di tre nuovi presbiteri, Don Carmine Rauriello, Don Giuseppe De Marco e Don Mario Bamonte, la chiesa della diocesi di Vallo della Lucania vive un nuovo momento di festa. Giovedì 4 febbraio, presso il convento di San Francesco di Lustra Cilento, Fra Massimo Giovanni Calbano, della famiglia dei frati minori della provincia religiosa salernitano-lucana, ha ricevuto per l'imposizione delle mani del bescovo sua eccellenza monsignor Ciro Miniero l'ordinazione diaconale. Carissimo Fra Massimo, davanti a tutti noi, poc'anzi, hai risposto alla domanda che ti ha rivolto il padre con deciso assenso. Hai detto eccomi, sei pronto allora a consacrare la tua vita a servizio di Dio e dei fratelli nel sacro ordine del diaconato. La chiesa accoglie con gioia questa tua decisione, ti sostiene con la preghiera perché tu possa essere ogni giorno testimone della carità di Cristo. Noi tutti sappiamo che è proprio la carità che contraddistingue i discepoli di Gesù e della carità tu ne sarai segno col sacramento dell'ordine del diaconato. Fra Massimo e diacono della Chiesa di Dio, lo accogliamo con un applauso. Grazie. Applausi. Grazie. Applausi. Grazie. Grazie.